Io non ho avuto nessun controllo, però sono contenta che ci sia un controllo maggiore perché sono stufa e qui non ne veniamo più fuori. Si sente più sicura a viaggiare così? Contentissimi perché è una garanzia anche per noi, qualsiasi forma di tutela in questo caso è bene accetta. Li hanno controllato? Che cosa? Un impasse? No. Sono d'accordo nel senso che la vedo giusta, è sicuramente una svolta perché questo vuol dire che molta gente dovrà un attimo vedere quello che vuole fare e sicuramente porterà tanta gente probabilmente a farlo e sono contenta perché dai ripartiamo finalmente. Io sono già vaccinata, non cambia nulla, dà soltanto magari una speranza in più per tutte le persone che comunque fanno fatica ad andare avanti. Secondo te come la prenderanno i nuovi Green Pass? Sicuramente male, molto molto male, però se ne dovranno fare una ragione. Oggi entra in vigore il Super Green Pass, ovvero il Green Pass solo per vaccinati o per guariti da Covid-19. Diciamo che comunque è una limitazione, penso che non sempre sia necessario arrivare a questi termini. Alla fine tanta gente si è vaccinata e non c'era secondo me bisogno di questo Super Green Pass, però è solo la mia opinione, sicuramente può essere condivisa o meno. Hai persone che secondo te da oggi non potranno entrare nei ristoranti a mangiare perché non sono vaccinati? Sì sì, ho dei miei conoscenti che hanno fatto questa scelta e io sono vaccinata, quindi per me non è un problema, però capisco anche quello che pensano gli altri e condivido e capisco il loro pensiero. Secondo me è necessario, visto la situazione, per cui sono ben contenta di mostrare il Green Pass. Si sente più sicura sapendo che ci sono vaccinati? Sì sì, sicuramente. È una misura necessaria? Sicuramente, ne abbiamo bisogno. Contentissimi, contentissimi perché è una garanzia anche per noi, qualsiasi forma di tutela in questo caso è ben accetta. No, no, in famiglia sono tutti vaccinati, anche i giovanissimi, quindi la pensiamo tutti allo stesso modo e il giorno di Natale ci riuniremo appunto perché abbiamo la tranquillità della terza dose, anche i giovani piccoli. Chiederete il Super Green Pass ai nipoti? Sì, e quindi speriamo di essere tranquilli e di scamparla così. Grazie.